Hi-Fi economico ma di qualità. Direi che sia una possibilità più che concreta. Oggi, visto il progresso nel campo elettronico soprattutto, l'abbiamo detto più volte anche su questo canale, l'elettronico ormai ha un rapporto qualità-prezzo che è spaventoso. Fosiaudio è uno di quei brand che dal punto di vista dell'economicità dei propri prodotti ha pochi rivali. Una cena per due ormai, e purtroppo aggiungo io, costa più di un loro amplificatore. Vedremo oggi la qualità del loro nuovissimo amplificatore valvolare Bluetooth P3. Poco tempo fa, sempre della casa Fosiaudio, abbiamo recensito il piccolissimo amplificatore integrato V3. Un ingresso analogico, un'uscita verso i diffusori, la manopola del volume e poco altro. Un prodotto semplice, semplicissimo, concreto, ma molto interessante, per cui vi lascio un link alla review qui sopra. Fosiaudio mi ha contattato di nuovo per propormi la review del nuovissimo preamplificatore P3, protagonista di oggi. Promesso, sposo, ideale del V3 di cui abbiamo appena parlato. Sia dal punto di vista delle funzioni, infatti permette di aggiungere la funzione di ricevitore Bluetooth all'impianto pilotato dal V3, sia dal punto di vista sonoro, o almeno così mi è stato detto. Il suo stadio di preamplificazione, infatti, valvolare, come abbiamo già detto, pare che corregga alcune distorsioni che caratterizzano la preamplificazione del V3. Del V3, ovviamente, utilizzato da solo, stand alone, con pre e finale. Questa cosa è quella che mi ha incuriosito più di tutti. Infatti, se ricordate bene, nella review del V3, aveva evidenziato una certa carenza nella ricostruzione della scena sonora, nel modo in cui l'impianto pilotato dal V3 presentava gli strumenti sul palco musicale. Quindi ho accettato di buon grado la review di questo prodotto, perché sono veramente curioso di capire se la coppia P3-V3 offre veramente un miglioramento sonoro rispetto al solo V3. Inoltre, il V3 ha bisogno, in ogni caso, di una sorgente e di un DAC, se si tratta di una sorgente digitale. Il P3 offre, ovviamente, la possibilità di introdurlo e introduce anche un accesso Bluetooth al vostro impiantino. Lo rende, insomma, pronto all'uso. Il Fosi Audio P3 è una novità assoluta, appena uscita sul mercato, ma qui a Casa Audio Filando è arrivato prima. A proposito, iscriviti al canale e permettici di avere, con il tuo aiuto, sempre più possibilità di avere anteprime da presentarti. Il tuo like e la condivisione sui tuoi canali social dei nostri video a te non costa nulla, ma per noi è molto importante. Ma torniamo al P3 e iniziamo a fare la sua conoscenza, tirandolo fuori dalla scatola. Fosi Audio P3. Nell'ottica di contenimento costi in questa categoria di prodotti, direi che utilizzare lo stesso imballo per differenti prodotti e personalizzarlo con un'etichetta è un'ottima scelta. Non posso che essere d'accordo. Andiamo a vedere cosa nasconde al suo interno. un imballo superiore di protezione e al di sotto troviamo innanzitutto manuale utente, con tutte le principali informazioni, istruzioni sui collegamenti e specifiche di questo prodotto in lingua inglese e in lingua cinese. Ci faremo andare bene, ovviamente, l'inglese. Alimentatorino Switching. Eccolo qua. Controllo le sue caratteristiche. Alimentatore da 12 volt 1,5 ampere. Più che sufficienti per far funzionare egregiamente questo stadio pre. Antenna Bluetooth. Il P3, infatti, può essere utilizzato anche come ricevitore Bluetooth per essere integrato all'interno del vostro impianto. Le due valvoline, i cui socket, li vediamo qua, emergere dall'imballo del corpo principale del preamplificatore. Valvole 5654 che andremo a aprire e installare dopo. Per ultimo, eccolo qua. Il corpo principale dell'amplificatore, avvolto in questo involucro sottilissimo. di nylon. Guardalo qua. I socket per montare le valvole sono qui, non si può sbagliare, e lo faremo insieme dopo. Ok, a questo punto siamo pronti a dare uno sguardo più da vicino a questo piccolissimo componente. Piccolissimo, quindi servirà molto zoom sulla fotocamera. Eccolo qui, il piccolissimo Fosiaudio P3. Stesse dimensioni, stessa forma dell'amplificatore integrato V3 che avremo modo di rivedere dopo. Sulla parte superiore sicuramente spiccano queste due coroncine belle arancione caldo acceso che rappresentano l'ingresso del socket in cui inserire le due valvoline. Che ne dite se ci togliamo il pensiero lo facciamo subito? Ma sì. Per l'occasione, eccoli qui, mi sono messo anche due bellissime ed elegantissimi guantini bianchi da mimo. Basta tirarla fuori dalla sua confezione, quella che abbiamo trovato prima durante l'unboxing. I socket hanno pin di connessione disposti in modo circolare e ne manca uno. Ecco qui che anche sulla valvola abbiamo la stessa disposizione circolare dei pin maschio con uno mancante. Quindi è facilissimo capire come deve essere inserita e polarizzata all'interno del socket. Basta quindi seguendo la polarizzazione inserirla e premerla in modo che tutti i pin facciano ben contatto. Facciamo la stessa operazione anche con la valvola per il canale destro. Ecco quindi che i due canali stereo sono entrambe pilotate nel percorso della preamplificazione dalle due valvole. Andiamo adesso a dare uno sguardo a cos'altro ci sia sul pannello frontale. Abbiamo ovviamente il controllo del volume centrale, la manopola più grande, e due manopole per i controlli di tono, per gli alti e per i bassi con i quali correggere la risposta in frequenza del nostro stadio di preamplificazione e colorare a nostro piacimento il suono. A completare il pannello frontale abbiamo questo levettino vintage che ha una duplice funzione, spegnere il dispositivo, il preamplificatore, e selezionare l'ingresso, infatti in posizione centrale identifica l'ingresso bluetooth, in posizione alta, cioè verso l'alto, seleziona come ingresso l'ingresso RCA che vedremo dopo dietro. Per finire, oltre al logo e alla scritta del modello che identifica questo dispositivo, abbiamo anche un'uscita a cuffie da 3,5 mm, infatti oltre a essere uno stadio di preamplificazione, è anche un amplificatore per cuffie. Diamo ora ovviamente anche uno sguardo al suo lotto B, in cui spicca subito il connettore per l'antenna bluetooth che andiamo subito ad avvitare. Eccolo qua, facilissimo. L'ingresso di alimentazione, quindi per il jack di potenza che arriva dall'alimentatore che abbiamo visto durante l'unboxing e poi la sezione di ingressi e uscite analogiche. Abbiamo una coppia di ingressi RCA di linea a cui connettere le nostre sorgenti analogiche o l'uscita di un DAC, l'uscita verso lo stadio di amplificazione, amplificazione finale o come vedremo dopo potremmo usarlo in combinazione con il V3, e anche piccolino qua, un jack da 3,5 mm che dà un'altra possibilità di un'uscita ausiliaria. Semplice, non ha ingressi digitali a parte quello bluetooth per farlo diventare un ricevitore bluetooth, solo interfacce analogiche dal punto di vista delle connessioni. Peccato, mi sarebbe piaciuto anche un ingresso digitale, un semplice toast link o un coassiale per completare il parco ingressi. Ho collegato il P3 all'alimentazione, tra l'altro, piccola nota, mi ha creato non pochi problemi la cosa perché il cavetto d'alimentazione, questo qua, sarà lungo un metro scarso e quindi non mi è permesso di arrivare direttamente alle prese che ho là dietro. Diciamo che 30 centimetri in più ce li avrebbero potuti concedere. Portarli in modalità operativa, come detto, è molto semplice. Basta portare il leverino su uno dei due ingressi, per esempio selezioniamo l'RCA, dobbiamo dare il tempo necessario alle valvole per scaldarsi, 15 secondi da manuale sono sufficienti ed ecco che una volta trascorsi i 15 secondi il piccolo P3 è pronto a operare. Forse non la vedete perché c'è troppa luce ma dentro la valvola si è accesa una carinissima luce blu che crea atmosfera direi. Un po' di buio per apprezzare la delicata atmosfera creata dalle valvole del P3. Per associare un dispositivo bluetooth al P3 selezioniamo l'ingresso bluetooth appunto, eccolo qua. Il led blu si mette a lampeggiare. Questo significa che il P3 è in attesa di una connessione bluetooth e di un transmitter bluetooth. Con il nostro dispositivo, in questo momento sto utilizzando un iPad, andiamo nelle impostazioni bluetooth e tra i possibili dispositivi di uscita selezioniamo appunto il Fosie Audio P3. Una volta connesso il led blu sul pannello frontale diventerà blu fisso. Veniamo ora al dettaglio tecnico, approfondendo le sue caratteristiche peculiari, i suoi numeri. Partiamo ovviamente dalle valvole che sono le protagoniste indiscusse di questo piccolissimo preamplificatore. Si tratta di una coppia di Pentody, in particolare il modello 5654W. Ho fatto un video in passato parlando di valvole e transistor, emettendo a confronto queste due tecnologie. Se siete interessati ad approfondire vi lascio qui sopra un link a quel video. È in grado di garantire un rapporto segnale rumore di 104 dB e una distorsione armonica totale inferiore allo 0,02%. La separazione tra i canali stereo che è in grado di garantire è superiore a 95 dB. Passando alle sue caratteristiche di ricevitore Bluetooth, possiamo dire che il chip integrato che gestisce questa funzione è della Qualcomm. In particolare si tratta del chip QCC3031. Questo chip si basa su un protocollo Bluetooth 5.1 APTX HD. Per finire, due parole sul suo stadio di amplificazione per cuffia. È in grado di pilotare impedenze e impedenze delle vostre cuffie dai 16 Ohm ai 300 Ohm. Sulle impedenze più basse, quindi quelle da 16 Ohm, è in grado di erogare 250 mW, che scendono progressivamente al crescere dell'impedenza fino ad arrivare ai 20 mW dei 300 Ohm. Bene, bene, direi che ora è il momento di ascoltarlo. E quale miglior modo di capire se effettivamente ci sono i benefici sonici che mi sono stati prospettati utilizzando la coppia P3 e V3 rispetto al solo V3 se non introdurlo in un impianto a parità di diffusori e a parità di sorgente? Nessuno, ovviamente. Abbiamo un piccolissimo problema però. Il DAC. Mi piacerebbe infatti utilizzare la coppia P3 più V3 nel modo in cui lo utilizzeranno sicuramente il 99% dei futuri possessori. Vale a dire utilizzare il ricevitore Bluetooth del P3, il suo DAC e le sue valvoline a monte del V3. Prendo il tablet o il telefono, seleziono il P3 come uscita Bluetooth e ho finito. Ma purtroppo come faccio a pilotare il V3 utilizzando un'interfaccia Bluetooth senza il P3 senza introdurre nella catena audio un nuovo ricevitore Bluetooth con il suo DAC e la sua particolare firma sonora? Non si possono in Bluetooth confrontare V3 da solo con P3 più V3 senza introdurre un'ulteriore variabile, vale a dire il DAC. Non si può a meno che non si utilizzi per entrambi i setup lo stesso DAC collegato prima all'ingresso analogico del P3 e poi all'ingresso analogico del V3 direttamente. In questo modo sì che si potrà valutare l'effetto benefico delle valvole introdotte nella catena e solo il loro effetto utilizzando questo sistema. Come sorgente DAC quindi spazio oggi ai nostri soliti Blue Sound Nod e Topping di 90 alla cui uscita analogica collegherò prima il P3 e poi il V3. E i diffusori? Beh sono ancora qui a nostra disposizione le bellissime KEF R3 Meta per cui vi lascio un link qui sopra alla review. Andatelo a vedere se non l'avete ancora fatto perché ne vale la pena. Fuoco alle polveri quindi ma non prima delle mie solite e importanti almeno per me istruzioni per l'uso per queste prove. Prendetele sempre con le pinze perché l'unico modo per capire se un prodotto ci piace o meno è ascoltarlo dal vivo con le nostre orecchie. La registrazione è effettuata col nostro registratore portatile lo Zoom H4n Pro in formato WAV 24 bit 96 kHz ed è posizionato là. Pubblicare prove d'ascolto su YouTube è dividentato praticamente impossibile per motivi di diritto d'autore. In questo video quindi troverete solo un breve brevissimo estratto delle prove d'ascolto. Chiunque fosse interessato ad approfondire può andare qui sotto in descrizione. Lì troverete il link al canale Telegram di Audiofilando dove potrete trovare la registrazione completa di quattro brani di generi diversi nella prova di oggi per entrambi i setup. Quindi senza perdere altro tempo partiamo con la prova. Veniamo ora alle mie personali personalissime impressioni su questo piccolissimo preamplificatore bluetooth. Sapete che c'è? Avevano ragione e ho fatto benissimo a provarlo. Partiamo subito con una precisazione sulle condizioni di prova. Come forse avrete notato nella catena composta da P3 più V3 c'era una ridondanza. Sto parlando ovviamente del controllo del volume. La prova con la coppia e i miei ascolti l'ho fatta portando a fine corsa la manopola del volume del V3. Quindi ho usato come stadio di preamplificazione come attenuatore del volume del segnale d'ingresso proveniente dal DAC la manopola del volume e quindi le valvole del P3. In questo modo ho potuto valutare appieno l'effettivo beneficio dello stadio di preamplificazione valvolare. Fatta questa premessa se ricordate e l'ho già citato prima avevo notato una certa scompostezza nella ricostruzione della scena sonora da parte del solo V3. Con la nuova catena quindi con il P3 collegato in serie tra il DAC e l'ingresso del V3 la situazione è migliorata drasticamente. Il risultato finale è infatti a mio modo di vedere molto superiore rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare da prodotti di questa fascia di prezzo. Davvero una pulizia notevole e oserei dire impressionante in relazione al prezzo. Anche il messaggio musicale nel suo complesso è molto più godibile. Infatti se con il solo V3 abbiamo un buon controllo, un buon dettaglio ma un pelino asciutto, un pelino assettico, aggiungendo il P3 nella catena riusciamo ad avere una risposta molto più musicale e realistica. In soldone introducendo le valvole del P3 a monte dell'amplificazione del solo V3 rende la risposta molto più godibile e sicuramente più di qualità. Le Keffer e tremeta sono pilotate con autorevolezza e non è che sia così scontato dal momento che con gli 87 dB di sensibilità e i loro 4 ohm nominali non sono un cliente così facile da gestire. Abbiamo parlato delle sue prestazioni sonore partendo da un DAC esterno ovvero quello che può offrire la sezione analogica del P3 o collegato al V3 e quando a monte c'è la catena, la sorgente di audio filando che almeno dal mio punto di vista è di qualità ovviamente. Ho provato lo stesso impiantino ovviamente anche sfruttando il DAC interno al P3 quindi inviando il flusso dati digitali tramite interfaccia bluetooth sfruttando il nostro iPad. Beh, la differenza c'è, si sente, è evidente e ci mancherebbe altro direi. Perdiamo infatti ovviamente un po' di dettaglio, questo dovuto sia alla trasmissione bluetooth in sé ma soprattutto anche alla sezione DAC. Si riesce a mantenere comunque un risultato complessivamente molto buono e con le stesse caratteristiche sonore di cui abbiamo parlato prima. Un piccolo tocco di colore queste valvole quindi e a tal proposito vediamo cosa abbia da dirci Elena sul loro design. Piccolo, piccolissimo Fosi Audio P3 guardate le dimensioni, sembra quasi un giocattolo e in effetti devo dire hanno giocato molto anche su questo aspetto così ludico tant'è vero che le due valvoline che sono tenerissime hanno questo anello alla base con questo colore rosso-arancio che lo rende quasi un po' più divertente del normale. Oltretutto, se vi ricordate, abbiamo recensito da poco il Fosi Audio V3 aveva la manopola dello stesso colore di questi anellini alla base delle valvole che chiaramente richiamano questo design quindi la Fosi ha creato questo fil rouge, devo dire, divertente. Beh, non c'è molto da dire sull'estetica di questo prodotto intanto lo sapete i suoi plus sono decisamente le dimensioni, il prezzo e poi comunque le caratteristiche nonostante il prezzo dei materiali e di alcuni vezzi come abbiamo già visto, ad esempio la levetta di accensione un po' retro che lo rendono molto accattivante alla vista quindi dei prodotti molto carini, molto poco ingombranti da tenere in considerazione. Quindi, per concludere, a chi potrebbe essere utile questo preamplificatore? A mio modo di vedere, a chiunque abbia un V3 Gemelli del Gol, come Viali e Mancini ai tempi d'oro Il giusto completamento e miglioramento da un doppio punto di vista Per primo, ovviamente, quello funzionale renderà il vostro impianto pronto per la musica liquida attraverso una comoda e pratica connessione Bluetooth Esistono connessioni migliori? Ovviamente sì ma per iniziare ci possiamo accotentare, direi Inoltre, metterà a vostra disposizione anche una postazione per l'ascolto delle cuffie cablate Ricordate, infatti, che il P3 possiede al suo interno anche uno stadio di amplificazione per cuffie In secondo luogo, rappresenta anche un completamento migliorativo per quanto riguarda la pura prestazione audio a due canali e di questo abbiamo già parlato ampiamente prima Miglioramento, a mio modo di vedere, non di poco conto quindi ti viene proprio voglia di aggiungere questo componente alla catena Insomma, se siete possessori del Fosiaudio V3 aggiungere il P3 non è la ciliegina sulla torta è una fetta importante della torta Ah, tra l'altro, una fetta che costa quanto? Meno di 100 euro A tal proposito vi lascio qui sotto un link per il suo acquisto Anzi, due link, perché vi lascerò anche quello per l'acquisto del suo gemello del gol vale a dire il V3 Vi ricordo anche che acquistare i prodotti su Amazon accedendo a quella piattaforma online attraverso i nostri link è un modo per aiutarci, che a voi non costa nulla è appena uscito sul mercato, quindi non credo che molti di voi l'abbiano già provato ma molti credo abbiano provato il V3 A tutti quelli che ce l'hanno chiedo quindi di condividere qui sotto le loro impressioni d'uso e consiglio vivamente di abbinare, di provare il P3 a monte della catena Se siete alla ricerca di un access point bluetooth per il vostro impiantino direi che il P3 è l'access point ideale per il V3 Un piccolo impiantino in grado di pilotare egregiamente anche diffusori importanti come abbiamo visto e provato insieme A tal proposito vi chiedo di scrivere qui sotto quali siano i diffusori che avete scelto per il vostro impianto Ricordate che i vostri consigli, il vostro aiuto, la vostra esperienza se espressa con commenti costruttivi può essere un valido aiuto a tutti i membri della community Per oggi direi che ho finito Non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao! Grazie a tutti!